Aprivano ditte nel settore dell'abbigliamento, mediante prestanome, cui operavano per due o tre anni in totale evasione fiscale e poi le chiudevano per sottrarsi al pagamento dell'imposta con un avvicendamento aziendale. È il meccanismo meglio conosciuto come apri e chiudi, scoperto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, coordinato dalla Procura di Urbino, con l'inchiesta Spidi Cinese, avviata nel 2015 a seguito di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale gestita da un soggetto di etnia cinese, dove erano state rilevate importanti violazioni in materia fiscale e di sicurezza sul lavoro, che ha portato a eseguire quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e al sequestro di beni per 3 milioni e 7 di euro, tra cui anche auto di diverso pregio. Due associazioni criminose, compose da persone di origine cinese, avrebbero nascosto al fisco ricavi per oltre 18 milioni di euro tra il 2011 e il 2019, con un'evasione di 3,7 milioni. Inoltre, nell'ambito di diverse attività ispettive, è risultato che le aziende avrebbero impiegato anche 5 lavoratori totalmente in nero e 68 invece irregolari. Il bilancio investigativo, quindi al termine dell'operazione, vede il coinvolgimento di 38 persone indagate a vario titolo per gravi reati fiscali come associazione per delinquere contestata a sei indagati ed omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili e fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte. L'operazione delle fiamme gialle ha consentito così di arginare un insidioso sistema di evasione fiscale molto nocivo per le imprese sane del distretto produttivo provinciale.